Sì, ma qui abbiamo una bellissima attrice che io farei... Cotè, Cotè de Pablo, buonasera. Lorenzo. Cotè. Come stai? Molto bene. Tu sei nella giuria dei documentari, ma qui si parla anche di un tema importante, la violenza sulle donne, che è un tema a Hollywood, ma anche un po' in tutto il mondo, molto sentito. Sì, bueno, io sto ora incargata della parte documentale, non solamente io, sono parte del giurato, però credo che la altra domanda che mi ha fatto ha fatto con la violenza contro la mujer a un livello internazionale, e credo che questo lo conversavamo prima, e che tiene molto che vero con, bene, ovviamente lo che sta passando, però, ma allà di questo, credo che è sumamente importante che salga e che la gente abbia la possibilità di parlare e dire la verità che io sento. Sì, insomma, molto importante questo tema. Questo è italiano. Questo è italiano. È italiano. Televizione italiana. Va bene, meglio lo spagnolo. Insomma, allora, con questa giuria internazionale, noi vi salutiamo, venite a vedere i film, sono per tutti, da oggi fino a domenica. Salute! Lorenzo!